Questo è l'altra metà del nostro prosciutto cotto che abbiamo fatto ieri e quest'altro invece sarebbe il sulze, usuz, come diciamo a San Lorenzo, che sarebbe carne in gelatina e questa volta sono la maggior parte piedi di maiale con un po' di carne e si vede la carne, si vede, si vede. Va bene, quando lo taglio vi faccio vedere un altro filmatino. Questo è il lato oscuro Come detto prima, adesso lo apriamo perché dobbiamo vedere il sapore, devo vederlo, la consistenza è abbastanza buona Bello duro E adesso vediamo come è venuto di consistenza, di sapore, cioè Alla prossima Perchè? 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 buonissimo qui come potete vedere abbiamo cutiche, un po' di tennarone, un po' di carne ma come ho detto è tutta carne del piede fino al ginocchio del maiale e quel tocco di aceto buono number one alla prossima